L'installazione del semaforo, in corrispondenza del passaggio a livello di via Senatore Angelini, ha suscitato in queste settimane molte polemiche. Il dispositivo luminoso è stato accusato infatti di aver rallentato il traffico e di essere sostanzialmente inutile. Critiche a cui Polizia Locale e Assessore dei Trasporti alla Viabilità Cosimo Bonansia hanno deciso di replicare. Il semaforo è stato impiantato a seguito di un incontro con la ferrotranviaria e siamo riusciti a mettere su un impianto che è sincronizzato con il passaggio a livello, tant'è che parte il rosso nelle due direzioni, sia via Senatore Angelini che via Scoppio, 12 secondi prima dell'impulso che ha il passaggio a livello prima che si abbassi. Nello stesso momento vorrei anche dire che l'attraversamento del binario nelle due direzioni contemporaneamente non è possibile, assolutamente. Perché? Perché la curva di via Senatore Angelini, se voi la verificate, è una curva esattamente a 90 gradi. Quindi non c'è la possibilità di una svolta strettamente a destra, così come prevede il codice. Si è costretti ad invadere l'altra careggiata. E chi sta al semaforo rosso pur vedendo le sbarre alzate non può lamentarsi, deve rispettare il semaforo perché il tutto è stato costruito e fatto per motivi strettamente di sicurezza. Bisogna cominciare proprio a metabolizzare, ad utilizzare i percorsi alternativi, fare qualche centinaia di metri in più per raggiungere la località desiderata nel più breve tempo possibile. Bisogna partire dal presupposto che quel semaforo l'abbiamo voluto insieme alla ferrovia perché avevamo la necessità di risolvere delle criticità che nei tempi passati si erano verificate. Chi pensa che il semaforo possa servire ad accelerare il traffico si sbaglia alla grande. Il semaforo serve a rallentare il traffico e far sì che si attraversi in piena sicurezza.